I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un 24enne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della squadra investigativa nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione del giovane, gravato da precedenti di polizia, dove nel corso della predetta attività gli agendi su un terreno incolto di agende all'abitazione hanno rinvenuto una busta di biscotti con all'interno due panetti di ascisce del peso lorto di 82,63 grammi. Altri 5,42 grammi della stessa sostanza sono stati trovati dentro il bauletto di un ciclomotore parcheggiato all'interno di un garage. L'arrestato è stato condotto in commissariato per gli addembimenti di rito e su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura della Repubblica di Gela accompagnato agli arresti domiciliari. Grazie a tutti!